Stasera a che ora inizia? Allora, appena finita la messa, alle sette e mezzo, già siamo operativi. Il menù qual è? Qua sono lupini, taralli, olive, vino e da quest'altra parte c'è il caciocavallo imbincato. E quindi stanno preparando il caciocavallo? Stanno preparando già la braccia per poter iniziare con il caciocavallo imbincato. Le torte qui invece sono preparate dagli alunni dell'Ipsar, del Carmine Russo, della scuola a Berlino. Quindi è fatto con noci, miele, comunque sono buonissime. E poi costano anche 10 euro lungo, quindi va, grazie.